Buongiorno a tutti, sono Nello De Padova, uno dei soci fondatori del Movimento per la decrescita felice che ha aderito alla campagna Stop Pesticidi, della quale uno dei massimi esponenti in Italia è l'amico Gianluigi San Valor, anche lui socio fondatore del Movimento per la decrescita felice. Gianluigi oltre che essere stato uno dei fondatori del nostro Movimento è un ex regionale del WWF e attivamente anche nel direttivo del PAN Italia, PAN sta per Network di Azione per i Pesticidi Action Network, scusate il pessimo inglese, e che è una derivazione italiana del PAN Europa e del PAN International, che raccoglie oltre 600 organizzazioni in 90 nazioni, tutte quante intente a cercare di ottenere il bando totale dei pesticidi di sintesi. Infine è anche socio dell'associazione politica SECUS, Sostenibilità, Equità e Solidarietà, che è il lavoro all'interno del gruppo di lavoro che si occupa di risorse produttive e sistemi alimentari locali. Entriamo subito nel vivo di questa nostra video intervista, che è il contributo che il Movimento per la decrescita felice dà quest'anno alla campagna, che è una campagna che scatta ogni anno da 14 anni ormai, dal 20 marzo al 30 marzo, cioè all'inizio della primavera, che è un periodo, come forse meglio ci spiegherà Gianluigi, particolarmente pieno di interventi chimici sui nostri territori. La prima domanda è proprio questa a Gianluigi e gli chiediamo di spiegarci meglio in cosa consiste questa campagna, la sua storia, le finalità, che cos'è questa campagna e perché è così importante. Vai Gianluigi. Ecco, buongiorno a tutti, ringrazio MDF di avermi invitato per questa intervista. Diciamo che la sovranità alimentare è una visione che questa campagna vuole portare avanti e che è una campagna organizzata o sostenuta quantomeno da Generation Futur, della Società della Cura, che è un'altra organizzazione concettinaia di associazioni in Italia e anche da MDF nazionale che propone in questo momento. La visione, come si può definire, è quello che vorremmo essere da qui a tot anni, cioè vogliamo guardare verso il futuro, ma una bellissima studio sulla visione della sovranità alimentare è stata portata avanti da una grossa organizzazione dell'ONU che si chiama Millennium Ecosystem Assessment, organizzata da Kofi Annan nel 2000, che è un studio che è durato cinque anni e che è stato sostanzialmente sintetizzato nel Regional Mosaic Concept, cioè nel concetto di un mosaico organizzativo fatto a livello locale. Come può essere sintetizzata questa strategia? È quella di pianificare le attività umane in funzione delle risorse rinnovabili utilizzabili localmente, scegliendo tecnologie più appropriate in tal senso. Quindi in questa sintesi, in questa definizione, ci sono gli elementi fondamentali della sopravvivenza del genere umano, le attività che si devono svolgere per poter vivere, le risorse rinnovabili che devono essere prese in considerazione per poter vivere, ma soprattutto risorse sfruttabili localmente, scegliendo le tecnologie più appropriate in tal senso. Quindi dall'età della pietra quando si usava la pietra, dall'età del bronzo quando si usava il bronzo, nell'età del ferro in poi quando si utilizzava il ferro. Quindi tecnologie, risorse, attività. Chiaramente i pesticidi di sintesi, di cui parleremo più avanti, non sono le tecnologie più appropriate per soddisfare questa visione. Questo è il concetto fondamentale. Dopo ne spiegheremo i perché non sono tecnologie appropriate. Uno degli otto obiettivi che il Millennium Ecosystem Assessment ha messo bene in evidenza è, il primo, è sradicare la povertà estrema e la fame. Ok. Sì, quindi dato lo scenario più generale nell'ambito del quale questa campagna si inserisce, ti pregherei di spiegarci più nel dettaglio perché è così importante eliminare i pesticidi di sintesi dal nostro sistema produttivo agricolo e anche zootecnico perché poi sappiamo che i pesticidi vengono utilizzati anche molto per produrre il cibo per gli animali che poi noi utilizziamo nell'ambito alimentare. Ecco, voglio partire da qualche definizione sul concetto di pesticida. I pesticidi, lo dice la parola stessa, uccidono le pesti, le malattie, ma il pesticida è una parola ufficiale e li dobbiamo chiamare agrofarmaci, fitofarmaci, disseccanti, eccetera, perché sono degli eufemismi. La comunità europea li ha definiti pesticides, pesticidi, e sono divisi in due sottoclassi. Quando sentite parlare di prodotti fitosanitari sono i pesticidi utilizzati nell'agricoltura. Quando invece sentite parlare dell'altra sottoclasse che sono i biocidi sono dei pesticidi utilizzati per la conservazione del cibo. I conservanti sono dei pesticidi per esempio del cibo perché uccidono le fermentazioni batteriche oppure sono adoperati una tantum per esempio per uccidere le zanzare, oppure per uso domestico quando uccidiamo le formiche con gli spray al clorpirifos per esempio, quello è un pesticida biocida. Ma i pesticidi perché uccidono? Perché hanno dentro dei principi attivi che possono essere di due categorie sostanzialmente. Uno, la prima categoria è quella a base di componenti naturali che possono essere lo zolfo, il rame, il calcio, eccetera, quindi tutti elementi con i quali noi conviviamo quotidianamente e di cui siamo in parte composti dentro il nostro corpo. Invece quelli adoperati nell'agricoltura, questi sono adoperati nell'agricoltura biologica. Oppure l'altra categoria è quella dei pesticidi inventati a tavolino, cioè sono quelli di sintesi adoperati nell'agricoltura convenzionale in quella di lotta integrata. La lotta integrata è una lotta che viene suggerita che deve mescolare delle azioni chimiche, l'utilizzo di pesticidi di sintesi più azioni biologiche come i ferormoni, eccetera, per attirare gli insetti e deviare le loro attenzioni verso le piante. Bene, i pesticidi di sintesi chiaramente, cioè quelli che sono studiati e inventati a tavolino, hanno tre caratteristiche fondamentali che li rendono assolutamente incompatibili con tutte le forme di vita. La prima caratteristica è che sono progettati per uccidere la vita. Ne abbiamo diverse categorie utilizzate in milioni di tonnellate. Sono insetticidi, erbicidi, fungicidi, molluschicidi, rodenticidi, accaricidi. Vedete che frediscono sempre con uccidi, uccidere, 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 uccidere. L'altra caratteristica è quella che sono sconosciuti all'evoluzione e i loro metaboliti, perché nel tempo si trasformano in quanto sono delle sostanze complesse, diciamo, instabili, sono molto più pericolosi dei principi attivi che sono dentro i pesticidi stessi. La terza caratteristica qual è? Quella del processo del loro utilizzo. Il processo del loro utilizzo è completamente fuori controllo, perché vengono in genere utilizzati ovviamente spruzzati nell'aria e indirizzati verso le piante, verso gli insetti, eccetera, e alla forza di gravità non si comanda e all'aria non si comanda. Perché? Alla forza di gravità perché quando vengono buttati nell'ambiente la gravità li attira verso le falde e acquifere e all'aria perché è nell'aria perché il loro utilizzo è soprattutto nell'aria, sono buttati nell'aria. Hanno un'altra caratteristica diciamo a cui nessuno pensa mai, è che si possono considerare dei rifiuti già al momento del loro utilizzo, perché solo una bassa percentuale va a bersaglio, che è circa il 5-10% ed il suolo agricolo diventa subito una loro discarica, come nel caso del glifosate, per esempio, che viene utilizzato massicciamente in tutte le azioni di diserbo, perché il glifosate che è inserito come principio attivo di sintesi in decine di prodotti commerciali, praticamente costa poco, ormai è talmente diffuso che ha dei bassi prezzi e quindi lo utilizzano come fosse acqua calda. Oppure questi pesticidi di sintesi che hanno questo tipo di pericolità vengono anche utilizzati vicino ai momenti della raccolta della frutta, del cibo eccetera, tant'è vero che nelle analisi normalmente noi abbiamo, nell'analisi dei prodotti venduti al mercato, abbiamo dentro in gran parte grosse quantità di questi pesticidi che possono avere un livello basso, quindi accettabile sotto i livelli massimi dei residui legali, però messi insieme hanno una moltiplicazione del rischio e della loro pericolosità. Quindi queste decine di trattamenti all'anno che si fanno, a seconda della frequenza delle piogge, sono praticamente un rischio enorme per il futuro della popolazione. Ok, abbiamo chiarito perché dovremmo quanto più presto farne a meno, la domanda è se allora continuiamo ad utilizzarli. Oddio, negli ultimi anni abbiamo avuto consapevolezza molto forte che quello che ci dice la scienza, quello che ci dice chi studia i fenomeni non viene particolarmente ascoltato da chi prende le decisioni per nostro conto, però è importante capire i meccanismi per i quali questo ascolto non c'è, quindi spiegaci un po' quali sono le principali resistenze, quali sono i meccanismi per i quali nonostante tutte queste evidenze scientifiche, ma anche intuitive, non ci sarebbe neanche poi tanto bisogno della scienza, continuiamo ad utilizzare invece che massicciano questi pesticidi. Sì, stante la loro pericolosità dichiarata in migliaia di studi scientifici, perché sono per la gran parte interferenti endocrini, cioè entrano nella cellula mimando gli ormoni, confondono la membrana cellulare e i ricettori cellulari per entrare nella cellula, in gran parte sono teratogene, in gran parte sono cancerogene, però questa pericolosità è stata sempre nascosta il più possibile, ma il loro utilizzo è diffuso e spinto dagli interessi del profitto delle multinazionali della chimica farmaceutica, si è diffuso molto perché tocca la facilità del risultato quantitativo della produzione ed è la quantità della produzione industriale che è il motore che spinge all'utilizzo di numerosi sempre più specifiche e pericolose protesi chimiche. Questo è il problema, siamo una società della produzione quantitativa, ma non vengono mai presi in considerazione e soprattutto vengono nascosti o messi in evidenza in modo marginale gli enormi costi esterni che il loro utilizzo produce. Per esempio in Francia, ma non in Italia si mettono in evidenza le crisi di interi ecosistemi come l'uccisione degli insetti utili, per esempio, che impollinano la frutta, che in gran parte, il nostro cibo in genere, sulle piante, insetti che sono diminuiti nelle aree agricole francesi anche del 90%, ma che sono anche, insetti che sono anche alimento per gli altri animali, come gli uccelli, che sono diminuiti in certe aree anche del 70%. Io lo vedo qui vicino a casa mia, io sono circondato dai vigneti del prosecco, una coltivazione industriale che è una devastante grande opera e ogni anno vedo la riduzione delle tipologie di uccelli che frequentano il mio territorio, io ho un territorio di mezzo ettaro circa, con frutteti e orto eccetera, ebbene ogni anno mi calano le tipologie, tutti gli insettivori sono spariti per esempio, tutti gli insettivori sono spariti, restano un po' di uccelli diciamo che mangiano, che mangiano semi eccetera, ma qualche merlo che sono sostanzialmente sono spariti un sacco e stanno continuando a sparire. Voi pensate una tonnellata di clorpirifos che è un insetticida buttato a manetta in questi vigneti più di una volta all'anno, uccide milioni di insetti. Ma il discorso, oltre ai costi esterni, c'è una strategia globale di cui nessuno parla e che è più pericolosa in assoluto di tanti altri tipi di strategie, che è il controllo del cibo. Cosa vuol dire controllare il cibo? Controllare il cibo vuol dire, da parte di alcune multinazionali, vuol dire che arrivano controllando il cibo a controllare il sistema sanitario della cura delle malattie croniche. Come si stanno facendo in questi ultimi periodi? C'è un'aggregazione che ha messo insieme i settori chimico-sementieri dell'agrochimica, quindi dalle sementi ai pesticidi e per arrivare alla cura delle malattie con un enorme conflitto di interessi. Quindi voi pensate, e qui vorrei vedere in sovraimpressione anche lo schema delle industrie chimico-farmaceutiche, se possibile, come si sono aggregate queste multinazionali partendo dalle sementiere, andando all'agrochimica e andando alla chimico-farmaceutica. Quindi controllando il cibo cosa fa? Si controlla sostanzialmente anche la sua qualità con l'obiettivo di produrre sostanzialmente delle cronicità dentro la popolazione. Infatti queste aggregazioni hanno un guadagno nel rapporto dei pesticidi malattie che è almeno 1 a 15. Infatti l'obiettivo cinico di queste multinazionali è far ammalare fino da giovani, cioè bisogna lavorare tutta la vita per curare le cronicità. L'espansione continua della pubblicità farmaceutica in tv, e lo notiamo tutti i giorni, è un sintomo del selling sickness, cioè del vendere malattie. Noi stiamo producendo una società che sta vendendo malattie nell'interesse di queste aggregazioni multinazionali che stanno controllando la qualità del cibo, perché il cibo che non è sano produce malattie. Sappiamo bene che c'è un grosso conflitto di interessi in queste case chimico-farmaceutiche perché producono, controllano il processo di produzione del cibo, ma guadagnano soprattutto nel curare le malattie. Questo è il più grosso conflitto di interessi che esista al fondo. Diciamo che se non abbiamo toccato il fondo, spero che abbiamo toccato il fondo, nel senso che peggio di così non potrebbe andare, però a questo punto proviamo ad avere un minimo di speranza. Esistono nazioni, territori, regioni, comunità che sono riuscite a sconfiggere questa macchina da guerra e quindi hanno rimosso i pesticidi di sintesi dal loro sistema produttivo? C'è qualche speranza? Sì, io penso che ci sia qualche speranza, però i cittadini si devono svegliare, cioè le persone devono aumentare la loro attenzione verso la pericolosità dei pesticidi di sintesi che stanno letteralmente sterilizzando il pianeta, non solo nelle nazioni evolute, nei 2 miliardi di persone di obesi, ma anche nel terzo mondo, dove le molti nazionali, ma anche nazioni come la Cina, gli Stati Uniti, eccetera, stanno colonizzando per produrre cibo per importare nelle loro nazioni. La Commissione europea, nella strategia farm to fork, cioè dalla azienda agricola alla forchetta, cioè al consumo, alla trasformazione del cibo, io cerco di evitare la parola consumo, perché è una parola che va contro i due principi della termodinamica, il primo e il secondo, perché niente, il primo dice niente si crea e tutto si trasforma e il secondo principio è quello dell'entropia, cioè nella trasformazione comunque esiste un degrado. Allora, nella strategia farm to fork, la comunità europea, ha pianificato di ridurre i pesticidi dei prodotti fitosanitari, però non ha esplicitamente citato i prodotti fitosanitari di sintesi, questa aggiunta alla quale io tengo molto, e gli antibiotici, quindi una riduzione del 50% per il 2030, 50% per il 2030, quindi nel giro di nove anni dovremmo essere in grado di ridurre il 50% l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e degli antibiotici negli allevamenti e nella produzione agricola. È una semi utopia questa, è una presa di coscienza grazie alla crisi del Covid che ha messo in evidenza sempre di più la necessità di curare la salute dei fattori ambientali, forse. Anche Pan International chiede che vengano messi al bando per il 2030 almeno i pesticidi di sintesi più pericolosi. Attenzione, perché nei pesticidi, anche quelli di sintesi, ci sono diversi livelli di pericolosità, ma eliminare almeno per il 2030, quelli più pericolosi sono almeno il 30%, cioè quelli che hanno tossicità acuta, cronica, che producono sistematicamente danni ambientali, eccetera. Sulle migliaia di principi attivi che ci sono in commercio, questi pesticidi pericolosi abbiamo elencato come Pan International, ne abbiamo elencati 338, quindi non noccioline. Quando noi parliamo di glifosate, che è un interferente endocrino, è uno di questi 338. Negli anni scorsi sono stati eliminati ben 460 pesticidi di sintesi, guardate che ogni anno vengono eliminati dal mercato decine di pesticidi di sintesi, ma ne vengono reimmessi ancora di più e sono sempre più pericolosi. Quindi in 162 nazioni sono stati eliminate decine e decine di pesticidi di sintesi. L'Europa, la Svizzera e il Brasile sono tra quelli più attivi che hanno eliminato questi pesticidi. la Svizzera è un paese che utilizza molto i referendum federali e dà in corso un referendum federale per la messa al bando, attenzione, in dieci anni di tutti i pesticidi di sintesi, sia l'importazione, sia la produzione, sia il commercio. Quindi la Svizzera forse è il paese che forse, se vincerà questo referendum, sarà la prima nazione che parlerà di mettere al bando totalmente i pesticidi di sintesi. L'Europa, anche se ha eliminato decine di pesticidi di sintesi, ma ne ha fatti rimettere autorizzati ancora di più, purtroppo sta facendo un'azione assolutamente criminale. Sta esportando ben 60.000 tonnellate all'anno di pesticidi che nella stessa Europa sono vietati. È una cosa assolutamente vergognosa. Addirittura come pesticidi vietati come l'atrazzina, che è già vietata da una ventina d'anni, i paracati, il trifolin, eccetera. Tutti i pesticidi utilizzati soprattutto nei paesi del terzo mondo. Ecco il land grabbing, il sfruttamento dei paesi poveri per poter fornire cibo ai paesi industrializzati. E l'Europa è dentro in pieno in questo crimine. Ecco, se parliamo di glifosate, di cui si parla molto, ma per me è uno specchietto per le allodole, perché è stato scoperto che è un interferente endocrino come altre decine di pesticidi di sintesi. Ecco, il glifosate è stato bandito solo dal Lussemburgo, dal Messico e dal Vietnam. È in corso una discussione in Europa per il suo rinnovo oltre il 2022. Non si sa, la Germania è il relatore, non si sa se verrà bandito o no. Ma ripeto, bandire non solo i glifosate. Nella nostra visione la strategia è quella della sostenibilità a tutto campo. Bene, queste notizie ci fanno un po' sperare, però immediatamente dopo viene l'altra domanda. ci dicono, però probabilmente non stanno esattamente così le cose e chiediamo a te di spiegarci bene, ci dicono che senza i pesticidi di sintesi le rese diminuiscono, che non è possibile alimentare 7 o 10 miliardi di persone in maniera sana senza il ricorso ai pesticidi, perché l'agricoltura tradizionale non sarebbe in grado di garantire la quantità di cibo sufficiente. Come stanno esattamente invece le cose? Lo vediamo adesso anche con la crisi del covid, del virus, che io chiamo il veleno biologico, perché virus è la parola, vuol dire veleno in greco. È chiaro che la forza delle multinazionali è enorme. Avete visto che vendono dove guadagnano di più. Lo stesso sta succedendo con i pesticidi. C'è un parallelo, perché c'è il profitto sempre di mezzo di questi interessi economici che sono di solito avallati da questo sistema neoliberista che guarda più all'economia e al profitto che all'interessi e all'egualitarismo e all'equità e alla sostenibilità. Nel caso dei pesticidi è chiaro che la potenza di fuoco dell'agroindustria, cioè quella chimico-farmaceutica, delle aggregazioni che ormai stanno tentando di controllare il 70% e più del cibo mondiale, questa potenza di fuoco dobbiamo pensare che a Bruxelles ha circa 500 lobbisti che premono perché le direttive e i regolamenti europei vengano indirizzati in un certo modo o nascondano certe problematiche. Ma altrettanto i lobbisti li abbiamo anche a Roma. Quindi lobbisti che sono 500, ho letto da qualche parte quelli delle case chimico-farmaceutiche, ma ce n'è 14-20 mila complessivi sia a Bruxelles che a Roma e tutti stanno a premere e inseguono i deputati perché le leggi siano fatte in modo che si affermi che non si può sostenere la popolazione del mondo senza le protesi chimiche di sintesi. Questo è l'obiettivo. Invece calcoli fatti anche da organizzazioni mondiali, globali, dimostrano che la popolazione mondiale può essere alimentata tranquillamente attraverso un'agrocoltura senza prodotti di sintesi. Questo lo si è verificato. È vero, e qui entro anche nell'altra parte della domanda, che l'agricoltura biologica ha delle rese inferiori rispetto a quella delle protesi chimiche perché quelle indirizzano nel momento della malattia o anticipano una malattia e ha rese inferiori, circa il 10-20%, ma non sempre perché l'agricoltura biologica è più resiliente rispetto al caos climatico, cioè agli eventi improvvisi che possano nascere con questo cambiamento del clima. Perché? Perché la coltivazione biologica ha un obiettivo chiaro che è quello di sanificare la terra e di rendere forte la pianta in quanto elemento vivente. Quindi non indirizza la protesi, il trattamento verso l'eliminazione della malattia, ma quello di rinforzare la pianta per anticipare i problemi sulle malattie, quindi rendere sana la pianta. Non solo, ma le radici, per esempio, delle coltivazioni biologiche sono più profonde e quindi resistono di più a rassicità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se si considerano inoltre i vantaggi esterni e di sostenibilità, quindi l'effetto climatico di cui abbiamo parlato, ma anche degli inquinamenti dei fattori ambientali che l'industria chimica o i pesticidi di sintesi producono nei confronti dell'aria, dell'acqua e del cibo e degli ecosistemi di cui abbiamo accennato in precedenza, insetti, uccelli, eccetera, la differenza di resa ambientale e sociale fra le due agricolture va assolutamente in vantaggio di quella biologica. Quindi però le forze, le proposte, eccetera, vanno da un'altra parte. Tra l'altro si dimostra che il processo biologico che è dato dal regolamento di agricoltura biologica, che è dato dal regolamento UE dell'838 2018, che invito tutti ad andare a leggere, è l'unico processo di produzione agricola controllato che rispetta tutti i sei obiettivi definiti dalla Next Generation UE. Attenzione! Questi 209 miliardi dati all'Italia, di cui il 37% deve guardare il problema ambientale, deve per forza, in assoluto, se vuole l'approvazione di progetti da parte dell'Europa, rispettare i suoi obiettivi. È il processo biologico, è l'unico processo agricolo che è controllato, che rispetta i suoi obiettivi. Quali sono questi obiettivi? Li leggo velocemente. Mitigazione e adattamento al clima, ne ho accennato prima. Protezione delle acque e risorse marine. Pensiamo alla laguna di Venezia, che con questo percolamento si sta impregnando di pesticidi che vengono dal nord-est, dal Veneto, sparsi in milioni di tonnellate. Economia circolare e riciclo delle risorse, questo è il terzo obiettivo. Prevenzione e controllo dell'inquinamento. Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il processo biologico centra in pieno questi e rispetta questi 5-6 obiettivi del Next Generation U. Questo è molto importante. Purtroppo nella PAC, nella politica agricola comunitaria che è stata prorogata fino al 2022, sui 52 miliardi destinati all'Italia, di cui 6-9 miliardi sono riservati all'agricoltura convenzionale e solo 1-7 miliardi all'agricoltura biologica. Quindi la PAC non solo non rispetta gli obiettivi della Next Generation U, ma capovolge gli stanziamenti verso un processo di coltivazione convenzionale che non li rispetta totalmente. Pronto? Non riuscivo a riattivare il microfono, scusatemi. Mi sentite adesso, vero? Ok. Sì, scusate. Sì, è vero. Quindi, diciamo, una importante attività che noi dobbiamo cercare di fare è quindi quella di compito lobby rispetto alle lobby esistenti. E come ricordavi, anche negli ultimi mesi alcune iniziative, fra cui per esempio la Società della Cura, che cercano di creare massa critica. Nella Società della Cura abbiamo riunito oltre 500 associazioni, migliaia di cittadini che adesso fanno proposte unitarie e sulla PAC in particolare stiamo predisponendo dei documenti da sottoporre ai nostri decisori perché queste modifiche vengano fatte. E questo però lo possiamo fare a livello di organizzazione, a livello nazionale, eccetera. Tu sai che invece MDF è un'organizzazione particolarmente attenta e particolarmente intenzionata a radicarsi sui territori. E ti chiedo, e questa è l'ultima domanda, che cosa come circoli di MDF, come soci di MDF sui nostri territori possiamo fare per supportare comunque un processo di depotenziamento della presenza di queste multinazionali, di questi prodotti di sintesi nella nostra vita, solo nell'alimentazione, ma nella nostra vita? Ecco, in questa crisi, diciamo, pandemica, globale, del veleno coronato, come lo chiamo io, ci sono dei grandi attrattori verso i quali adesso si rivolge sempre di più l'attenzione che fa fronte a queste grandi distorsioni di comunicazioni sulla sostenibilità delle multinazionali che lavorano solo sui profitti, ma anche dei governi deboli che sono praticamente mappate sugli interessi di queste multinazionali. E quindi noi dobbiamo rivolgersi a questi grandi attrattori di cui adesso vorrei accennare. I grandi attrattori vengono utilizzati in fisico per dire sono dei luoghi di convergenza, diciamo, logica, strutturale, per ottenere dei risultati. Nel nostro caso un ambiente sano, una sostenibilità, un'equità, una solidarietà. Ecco, come cittadini viviamo in un territorio e questo territorio dovrà privilegiare per forza, io penso, stando anche alla definizione dell'original mosaic concept dell'ONU, dovrà privilegiare l'autoproduzione. Ognuno dovrà cercare, ognuno, ogni cittadino, perché nei secoli è successo sempre questo, l'agricoltura era, diciamo, fino agli anni 50 era il 60% dentro il settore primario della struttura sociale, adesso è arrivata al 5%, quindi c'è una distorsione della struttura sociale che ha privilegiato i servizi grazie all'energia del petrolio e del fossile a basso prezzo. Bene, dovremo tornare all'autoproduzione per creare ricchezza reale, ognuno di noi dovrà darsi da fare per creare ricchezza reale, perché adesso si stanno stampando soldi e i soldi non si mangiano, si mangia il cibo, si beve l'acqua, cioè bisogna rivolgersi assolutamente verso la tutela dei bisogni fondamentali e la sovranità alimentare è un primo obiettivo. Quindi per gli acquisti organizzare e partecipare ai gruppi di acquisto solidale, per esempio, gruppi di cittadini che mettono insieme per andare in cerca di produttori locali, ecco, a filiera corta, che producono cibo sano. Ma meglio ancora è se a livello locale si organizzano le comunità di supporto all'agricoltura. Cosa sono queste comunità di supporto all'agricoltura? Sono delle comunità locali che integrano e ottimizzano la produzione dell'agricoltura e le necessità dell'acquirente in una spirale di reciproco miglioramento continuo. Con quali obiettivi? Per il controllo della qualità del cibo, dei suoi costi e soprattutto della riduzione degli sprechi, perché se a livello locale il cibo viene, come si può dire, indirizzato alle reali necessità quantitative e qualitative da parte dei consumatori, non dei consumatori, dei trasformatori, degli acquirenti, allora abbiamo sostanzialmente una riduzione degli sprechi. Voi sapete che si spreca a livello globale il 40% del cibo, circa 40% del cibo. Grazie a questo all'avergognoso aumento dell'organizzazione dei supermercati, degli ipermercati e adesso delle vendite online, che sostanzialmente hanno obiettivi contrari agli obiettivi delle comunità di supporto all'agricoltura. Quindi autoproduzione, comunità di supporto all'agricoltura, gruppi di acquisto solidale, hanno obiettivo della sostenibilità, ma attraverso una produzione locale a filiera corta, altro che supermercati o vendite online, senza l'utilizzo di protesi chimiche di sintesi. Questo deve diventare l'obiettivo fondamentale, cibo sano senza l'utilizzo di pesticidi di sintesi. Questo è l'obiettivo fondamentale. Quindi questa partecipazione attiva della produzione per i beni essenziali deve anche stimolare l'attenzione dei cittadini verso la produzione di leggi e regolamenti, perché noi viviamo in una realtà organizzata, sociale, che può essere a livello europeo, a livello nazionale, regionale e locale, quindi un interesse di regole top down che vanno dall'Europa alle nazioni, alle regioni e ai comuni, che siano coerenti con la visione del Regional Mosaic Concept dell'Uni, che ho citato in precedenza, quindi attività che si sviluppano grazie all'utilizzo delle risorse rinnovabili del territorio, utilizzando tecnologie appropriate. E qui non smetterò mai di ripetere questa sintesi che mette insieme una infinità di concetti. A livello locale sarebbe opportuno che i cittadini utilizzassero quindi strumenti istituzionali di proposte, quindi locale intendo regionale e comunale. Quali potrebbero essere? Io ne suggerisco un paio, perché li stiamo sostanzialmente utilizzando anche nelle nostre attività di proposta locale. Intanto partecipare a organizzare referendum propositivi che sono permessi dagli statuti comunali nazionali in base alla legge sull'autonomia del 1992. Questi referendum propositivi possono proporre di eliminare nel territorio comunale tutti i pesticidi di sintesi. Noi abbiamo sviluppato questa proposta nel comune di Conegliano, per esempio. è stata validata dai tre legali che erano autorizzati a vagliarlo. Adesso però c'è un ricorso delle organizzazioni, dei produttori del vino e dei col diretti della CIA e della Federale Agricoltura. C'è un ricorso perché con questa motivazione noi stiamo utilizzando prodotti di sintesi autorizzati a livello nazionale dalle direttive, dalle leggi nazionali, eccetera, e quindi voi non potete fare un referendum che vieta il loro utilizzo nel territorio. Ebbene, noi rispondiamo. Intanto il nostro è un referendum propositivo e quindi non è abrogativo di nessun regolamento locale né nazionale né regionale. Prima istanza. Secondo, vogliamo che la popolazione, la residente, prenda posizione e se andasse bene potrebbe essere a maggioranza anche potremmo ottenere un buon risultato che prendesse posizione e coscienza di questa pericolosità dei pesticidi nel territorio comunale. L'altra proposta che vogliamo fare e che è dirimente per quanto riguarda il futuro del biologico è questa. Che i cittadini si devono attivare per far inserire nelle linee guida regionali e nel regolamento di polizia locale e comunale sia il processo di produzione agricola convenzionale sia quello di produzione biologica. Qui non so se si mette in sovraimpressione lo schema perché sono questi due processi quello di produzione convenzionale che utilizza i pericolosi pesticidi di sintesi e quello biologico sono due processi incompatibili fra di loro e nei regolamenti di polizia rurale comunale e nelle direttive e nei regolamenti in genere che si applicano si definisce solo il processo di produzione convenzionale trascurando completamente il processo di produzione biologico. Questo cosa comporta? Comporta che se non viene messa se non viene portata alla stessa dignità alla pari dignità la regolamentazione locale e regionale della produzione biologica e di quella convenzionale cioè regolamentando i conflitti cioè i rischi e le derive dell'utilizzo dei pesticidi di sintesi nei confronti della produzione biologica quindi parlando di distanze parlando di pagamenti dei danni secondo il principio di chi inquina paga la produzione biologica resterà sempre una cenerentola non riusciremo mai a fare una transizione al biologico una transizione totale al biologico questo è un argomento fondamentale perché non si deve più parlare attenzione di riduzione dei pesticidi di sintesi ma della loro eliminazione entro un certo periodo di tempo come sta facendo il referendum in Svizzera questo è un problema importantissimo è un'ultima considerazione purtroppo nella proposta di legge del nazionale che abbiamo a livello nazionale sul biologico e che è lì ferma da due o tre anni il tema essenziale della pericolosità delle derive dei pesticidi di sintesi è completamente assente come sono assenti anche le proposte di distintivo dei pesticidi di sintesi quindi siamo ancora in alto mare per quanto riguarda la regolamentazione della transizione per una seria transizione al biologico Bene, Gianluigi noi ti ringraziamo tantissimo per questa intervista che ci ha voluto concedere che ci ha dato soprattutto alcune importanti indicazioni su cosa poter fare come soci e come circoli MDF sui nostri territori nel ringraziarti voglio con l'occasione per ricordare che quest'estate il bike tour della crescita che la pandemia ci consente di organizzarlo passerà anche dalla tua casa che è stata fra l'altro la sede è la sede della crescita felice e in quell'occasione sicuramente avremo modo di tornare ad approfondire questi temi e tornare a confrontarci e quindi saluto tutti e invito a seguirci sui nostri canali Facebook, Youtube oltre che ovviamente anche sul nostro sito per le altre iniziative che porteremo avanti grazie ancora Gianluigi e a presto ciao va bene, vi ringrazio dell'invito e saluto tutti e arrivederci con il bike tour ok, grazie ciao, a presto a presto, ciao, a presto a tutti